Allora, ciao a tutti ragazzi, oggi sono senza voce, mi dispiace, questo video è il classico video, se vogliamo, che fanno tanti youtuber, anche se io non mi considero assolutamente youtuber, io sto cazzeggiando. Per ringraziarvi dei 100 iscritti, sono 103 attualmente nel canale, ci ho messo soltanto 8-9 anni ad arrivare a 100 iscritti, ma vi ringrazio per i commenti che spesso mi fate ai video che ho fatto, e anche se mi rendo conto che spesso sono video un po' controcorrente, nel senso che dico anche cose un po' contestabili, parlo del video riguardo a Francesca Michelin, all'Amoroso, eccetera, eccetera. Comunque sia, grazie, io sto continuando ad impegnarmi molto sul blog, soprattutto che vi invito a seguire, sto cercando di aprire delle sorte di rubriche, se vogliamo, settimanali e anche giornaliere, come tutti i concerti che faccio, scusate, tutti i concerti in Italia, nella giornata, tutte le classifiche, tipo la Fimi, la classifica di Radio DJ, delle 50 songs, e quindi sto cercando di aumentare quanto più possibile anche la varietà di tipologie di post sul blog, ogni tanto appunto farò anche video qua quando ci saranno delle cose interessanti, di recente devo pensare cosa è successo, non mi viene in mente niente di particolarmente straordinario, però magari mi sto dimenticando, se voi avete magari qualche idea, commento su video da fare, recensioni, qualche cantante di cui volete parlare, anche di quella che voi volete magari scontrare, perché perché no la discussione è molto bella, fatemelo sapere nei commenti. Io ringrazio i 103 iscritti in questo caso, ci vediamo alla prossima, ciao, 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 ciao.